Buongiorno a tutti e a tutti, noi ci troviamo qui per la presentazione di un testo che riteniamo fondamentale per chi si vuole occupare, si deve occupare, ha interesse a occuparsi di previdenza complementare nel pubblico impiego. Il testo è un libro del professor Francesco Vallacqua, Francesco Vallacqua oltre ad essere uno dei maggiori esperti di previdenza complementare del pubblico impiego, è professore di economia e gestione dell'assicurazione vita e fondi pensione presso l'Università Bocconi e di economia e di fondi pensione presso l'Università Carlo Cattaneo, oltre ad essere un amico del fondo di previdenza per Seusirio, in questi anni abbiamo fatto tante iniziative insieme, ma soprattutto ci siamo consultati spesso per muoverci nei meandri della previdenza complementare, per lavorare insieme per migliorarne la comprensione, la comprensione per chi ci lavora, ma soprattutto per rendere migliori gli strumenti di informazione per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego che a nostro avviso debbono essere messi nelle condizioni di conoscere le opportunità che hanno e di decidere in maniera consapevole se aderire o meno ai fondi di previdenza complementare di tipo negoziale. No, ovviamente, essendo il fondo per Seusirio un ente bilaterale costituito dalle parti datoriali delle organizzazioni sindacali, siamo convinti, ma non per obbligo, ma una convinzione profonda che i lavoratori, soprattutto quei lavoratori che hanno un periodo lungo davanti a sé prima di arrivare al collocamento a riposo, debbano utilizzare la previdenza complementare di tipo negoziale. Nel libro di Francesco Vallacqua viene spiegato come è organizzato questo mondo, è un'introduzione al tema, è uno strumento per aprire un dibattito, noi questo è quello che vogliamo fare, oggi ci rivolgiamo agli operatori dell'organizzazione sindacale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi organizzeremo anche altri eventi perché possano partecipare a questa nostra discussione, decisori politici, rappresentanti di organizzazioni sindacali, dell'autorità di controllo, delle amministrazioni pubbliche, insomma tutti coloro che sono convolti nel sistema complesso della previdenza complementare. Io non voglio rubarvi molto tempo, dico soltanto come siamo organizzati, dopo il mio intervento, l'avvio a questa presentazione, lascerò la parola al presidente di Aran, il dottor Nadeo che ringrazio moltissimo, si collegherà da remoto al nostro appuntamento. Aran è stato un partner fondamentale in tutto questo periodo di maggiore implementazione che abbiamo voluto dare al fondo, non soltanto sostegno nostro ma ovviamente come sostegno alle amministrazioni e come interlocuzione delle organizzazioni sindacali. Dopo l'intervento del presidente Nadeo lascerò la parola al professor Vallacqua per la presentazione del libro e dopo un suo primo intervento insieme al direttore generale Maurizio Sarti risponderemo alle domande che ci arriveranno, voi potete scrivere nella chat vostre domande che noi rivolgeremo prevalentemente al professor Vallacqua essendo il nostro ospite ma ci mettiamo a disposizione il direttore e il sottoscritto per interlocuire con voi. Ovviamente non tutto riusciremo a rispondere in questa ora di iniziativa, terremo ovviamente le domande e avremo un'interlocuzione con i nostri associati o potenziali tali attraverso i canali classici che utilizziamo costantemente, dunque i social, il nostro sito, lo sportello e via dicendo. Insomma un canale di collegamento con noi sempre aperto, cercheremo di selezionare quelle più rappresentative e che possono riguardare un numero più ampio possibile di persone. È ovvio che ad iniziative come queste non rispondiamo puntualmente al caso XY ma cerchiamo di dare un inquadramento generale della tematica. Il libro io l'ho definito fin dall'inizio un manuale che ognuno di noi che si occupa di previdenza complementare nel pubblico impiego deve tenere sulla scrivania, deve tenere a portata di mani per gli operatori, per organizzazioni sindacali, per i responsabili degli uffici pubblici. A diversi livelli questi soggetti debbono avere una conoscenza della previdenza complementare. Spesso nelle nostre lunghe chiacchierate con Francesco e con il professor Varlacqua ci siamo interrogati molto su questo, come diffondere la cultura previdenziale nel nostro paese, come diffondere la cultura della previdenza complementare di tipo negoziale, dunque come farci conoscere, come mettere in mano lo strumento migliore per colui che deve interloquire con il lavoratore e poi al lavoratore per metterlo appunto nelle condizioni di scegliere consapevolmente. Noi pensiamo che questo libro aiuti a fare questo lavoro e nella lettura del libro, oltre che trovarci spunti per la risposta quotidiana ad un quesito, per un dubbio nel momento in cui devi mettere in campo un'iniziativa o altro, il libro nell'analizzare la legislazione, tutta la produzione di Covid, gli accordi sindacali, le note interpretative di Aram, le iniziative dei sindacati, l'attività che abbiamo messo in campo noi, è ovvio che nel fare questa analisi ci dà dei spunti di riflessione, ci invita la riflessione, questo libro non dà le soluzioni che debbono stare in mano al legislatore, alle parti istitutive, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro, in questo caso Aram, ma sicuramente ci dà degli spunti e lo fa peraltro nel momento in cui stiamo facendo questa discussione, ne parlavamo poco prima di iniziare, in questi giorni, in queste settimane, direi dal rinnovo del Parlamento, dalla formazione del nuovo governo, si discute della riforma delle pensioni, si discute anche fortunatamente per quanto ci riguarda di incentivare la previdenza complementare, di farla attraverso iniziative di carattere legislativo che incidono sulla tassazione, di farla rimandando ad accordi, di farla attraverso delle campagne informative, di affrontare il tema della gestione finanziaria, di come utilizzare queste risorse che ovviamente debbono partire dal postulato di essere garantite e di dare una rendita al lavoratore che sia, per gli obiettivi che ci diamo noi, maggiore di quanto è il TFR, partendo da qui però utilizzare queste risorse al meglio anche nell'economia italiana. Mi riferisco al dibattito che da anni esiste sull'investimento nell'economia reale, degli investimenti responsabili che nello stesso tempo debbono produrre appunto dei risultati positivi. Insomma, tante sono le questioni che si aprono con questo libro. Noi lo utilizzeremo, tra qualche settimana faremo anche un'altra iniziativa di presentazione, in questo caso in presenza a Roma, nella quale inviteremo i decisori politici, inviteremo l'organizzazione sindacale, le parti datoriali, perché vogliamo che questi spunti di riflessione sulla gestione e sul futuro della previdenza complementare possano essere affrontati e per questo, come dicevo, la normativa per rincentivare le adesioni e la gestione finanziaria, il tema della governance dei fondi, sulla quale spesso ci siamo tornati in diversi dibattiti dicendo che stiamo affrontando un tema, quello della governance, che non è che è problematico, perché oggettivamente in questi decenni di vita dei fondi di previdenza complementare, la bilateralità ha comportato una correttezza, una trasparenza nella gestione dei fondi, affrontiamo casomai questo tema della governance, ma io direi anche della dimensione dei fondi, nella direzione di un miglioramento, di come si possa rendere ancora di più produttivo il lavoro degli organi dei fondi, del suo rapporto di questi e il rapporto con l'autorità di controllo, sentiremo tra un paio di mesi, a giugno, anzi anche meno, tra un mese, perché all'inizio di giugno ci sarà la relazione al Parlamento di Covip, sentiremo anche lì quali sono i numeri, qual è lo sviluppo, insomma la necessità di approfondire la discussione. Questo libro ci dà un po' tutto, però io non rubo altro tempo nella mia presentazione, il tema che vogliamo affrontare oggi è come questo libro può essere utile per tutti coloro che affrontano questo tema da diversi punti di vista, da chi quotidianamente deve rispondere al telefono del lavoratore che vuole sapere come attuare l'accordo sul silenzio assenso con diritto di recesso che oramai da più di un anno in applicazione e ha prodotto risultati molto importanti piuttosto che come dicevo prima questi spunti di riflessione. Bene, l'ho fatta troppo lunga, mi fermo qui, ringrazio ancora il Presidente Nandeo per la sua presenza, guardo la regia se ci sono problemi tecnici per passare subito al collegamento a lui, se non ve ne sono, ecco lo vedo anch'io collegato per cui lascio subito la parola al Presidente Nandeo, mi consentirà Presidente di ringraziare Aran, lei e mi permetto attraverso di lei di ringraziare tutta la struttura che in questi anni che ho potuto apprezzare professionalità, dedizione, io vengo da esperienze nella pubblica amministrazione e diciamo così il sentiment come va di moda di dire oggi non è un sentiment assolutamente positivo sulla pubblica amministrazione, mi permetta di smentire, non sono solo delle eccezioni, nella pubblica amministrazione c'è un'altissima qualità, io l'ho incontrata in tantissime occasioni, come nella vita terrena ci sono delle ombre, ma questo non ci deve diciamo così far dire che siamo in una situazione di depressione totale, non è così, la pubblica amministrazione ha punte altissime qualitative, io le ho incontrate a tutti i livelli fino ad Aran e di questo li voglio ringraziare personalmente come fondo per l'attenzione che hanno rivolto non scontata, non obbligatoria al fondo ma soprattutto ai lavoratori che decidono di essere informati, che vogliono essere informati e decidono consapevolmente se aderire o meno. Dunque grazie a lei, grazie ad Aran, le passo volentieri la parola e le lascio i suoi commenti sul libro o su quello che vorrà. Grazie. Presidente grazie e grazie dei complimenti che poi girerò alla struttura, soprattutto ad alcune persone che hanno sempre supportato questa parte, in particolare il dottor Mastro Giuseppe, il dottor Martire dell'Aran che hanno sempre, devo dire, sia svolto la loro attività nell'ambito della, diciamo, della contrattazione, ma in modo particolare hanno sempre creduto nei fondi pensione, no? E in modo particolare c'è uno stretto legame con il fondo Perseo Sirio. Io innanzitutto volevo fare i complimenti al professore, adesso io non mi vedo più, mi vedo solo me, ma penso che il collegamento sia attivo. Volevo fare i complimenti al professor Vallacqua, perché trovo, diciamo, questo libro manuale, permettimi Presidente, come l'hai chiamato, manuale tecnico dove effettivamente c'è sia tutta la storia, no? Di come è nata la previdenza complementare nel pubblico, c'è una disamina normativa molto accurata, cosa che io l'ho vissuto in step diversi, diciamo, da quando in ruoli diversi, adesso sono Presidente dell'Aran, ma sono stato per tanti anni Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, ero già qui tanto tempo fa, devo dire la verità, come funzionario e come esperto, diciamo così, qui all'Aran, e il tema della previdenza complementare, diciamo, è sempre stato un tema molto discusso, molto complesso, molto complesso, infatti secondo me c'era la necessità di avere un libro che in qualche modo aiutasse e fosse da supporto, innanzitutto agli operatori, a chi all'interno delle amministrazioni deve spiegare ai lavoratori che cos'è un fondo pensione, che cosa vuol dire aderire a un fondo pensione, no? Allo stesso modo ai sindacati e gli stessi dipendenti pubblici che hanno, vogliono informarsi in modo più accurato su questa tematica. Presidente, tu sai che sulla comunicazione io ho sempre battuto, diciamo, soprattutto su questa materia, perché c'è molta confusione, c'è una concorrenza, non tanto di qualcun altro, no? Di qualcuno che sta fuori, no? Oppure del privato e via di seguito, c'è una concorrenza tra istituti vecchi del nostro trattamento previdenziale nel pubblico che competono con, diciamo, i fondi pensione. Che cosa voglio dire? Per esempio nel libro quando c'è nella parte iniziale la distinzione tra TFS, TFR, diciamo il valore che c'è al TFS rispetto al TFR, il TFR è l'elemento fondante della ritribuzione poi dei fondi pensione e qui c'è stata sempre un'enorme confusione e una diffidenza da parte dei dipendenti pubblici, no? Nell'adesione ai fondi. Poi noi abbiamo fatto un passo, come tu sai, con l'accordo in relazione a una disposizione di legge, con un accordo firmato il 16 settembre 2021 che ha permesso, diciamo, di applicare all'interno del regime dei fondi pensione il silenzio assenso con tutte le garanzie possibili, perciò nonostante alcune critiche che abbiamo avuto da alcuni sindacati non firmatari, diciamo, dell'accordo, ma in realtà il silenzio assenso si fonda su un sistema di comunicazione che ci deve essere, partendo dal contratto individuale, partendo, diciamo, dalla comunicazione che l'amministrazione deve dare al lavoratore, il lavoratore ha sei mesi di tempo per decidere di non aderire e ovviamente è un'adesione, a mio avviso è un silenzio assenso che diventa un'adesione consapevole al fondo pensione trascorso questo periodo. E se mi posso permettere, noi stiamo dando un elemento, perché io ritengo personalmente, lei lo sa, lo sa, personalmente che aderire, per il dipendente pubblico, aderire al fondo pensione è una cosa conveniente rispetto a quello che è l'attuale sistema previdenziale e quello che andremo incontro, come tu dicevi, in futuro. È una cosa favorevole e noi in qualche modo abbiamo dato, non dobbiamo vendere prodotti per i dipendenti pubblici, noi dobbiamo dare al dipendente pubblico la visione futura di quello che sarà il suo trattamento previdenziale e l'importanza che può avere l'adesione ad un fondo pensione per questo. Su questo ci devono aiutare le organizzazioni sindacali e per questo motivo che secondo me l'Aran ha svolto un ruolo oltre a quello che sono, come posso dire, le attività che noi dobbiamo svolgere, attività di contrattazione, noi facciamo l'attività di contrattazione su un mandato che ci dà il governo, il comitato di settore, in questo caso c'era una disposizione di legge, il governo ci ha dato mandato a trattare su questo, però quando tu ringraziavi l'Aran in quanto anche amministrazione che ha delle personalità importanti dal punto di vista delle competenze all'interno dell'amministrazione, su questo tema lo fanno anche con grande passione, io ho visto sempre il dottor Massimo Giuseppe, il dottor Martire che veramente rispondono a questo tema con grande interesse, rispondono alle amministrazioni con grande interesse, abbiamo fatto delle fac sul nostro sito e che io adesso cogliendo l'occasione, perché purtroppo abbiamo sempre tante cose trattative ancora aperte, molto rilevanti, secondo me li possiamo rilanciare anche da un punto di vista dei social, io sono molto appassionato alla comunicazione, penso che la comunicazione deve travalicare anche il fatto di un sito web e via di seguito, oppure voi mi sembra che siete attivi, ho visto sulla parte dei social, è una cosa importante, i miei all'inizio non ci credevano molto, sembrava una cosa, però in realtà poi ho notato che noi stiamo portando a conoscenza dei dipendenti pubblici dell'attività dell'Aran soprattutto, questo è il nostro lavoro, anche attraverso i social ci credono molto e adesso anche veicolare questa comunicazione soprattutto per i fondi pensione attraverso i social sarà una cosa che farò con molto interesse. Io non voglio rubare altro termine, questo volume lo dico al professor Vallacco che mi complemento per un tema molto difficile, ostico pure per me che lavoro su questi temi, però che questo volume rende un modo abbastanza, come posso dire, semplice e intuitivo quello che può essere l'applicazione, poi è rivolto a dei tecnici e ovviamente questo può essere utile. Io me lo tengo sulla mia scrivania come un elemento diciamo di informazione importante su una materia comunque, una materia comunque complessa. Perciò mi complimento con il professor Vallacqua, mi complimento con il presidente, con Sarti per la loro attività divulgativa perché il presidente è un altro che ci crede, ci crede molto, ci crede veramente e fa un'attività divulgativa molto importante. I fondi pensione devono essere oggetto di divulgazione continua, di informazione continua ai dipendenti pubblici. Con il silenzio e senso abbiamo trovato il modo per scardinare un po' una sorta di letargo che hanno, di paure che hanno i dipendenti pubblici su questi strumenti e perciò io penso che questa azione comune di ARAN, di Fondo Perseo Sirio e di tutti quelli che sono interessati a questi temi può essere importante per diffondere il Fondo Perseo Sirio perché più aderiscono al fondo, più risorse vengono gestite e più sono garantiti chi aderisce al fondo. Questo mi sembra un elemento fondamentale. Perciò complimenti per il libro, complimenti per la vostra attività. Vi seguirò anche per sentire quello che dicono altri partecipanti a questo evento. Grazie, grazie per l'invito. Vanno nella giusta direzione e poi entrano come sempre nel vivo. Noi lo facciamo passando la parola al professor Francesco Vallacqua. Tu hai parlato di materia non semplice, di materia ostica. Io ricordo anni fa quando ho partecipato al corso professionalizzante MEFOB Sapienza che uno dei professori ha definito il sistema pensionistico italiano una delle giungle più folte presenti sulla faccia della terra. In effetti è una materia complicatissima e la cosa che abbiamo scoperto, che io ho scoperto in questi anni è che nella giungla del sistema previdenziale italiano ci sono dei sottoboschi ancora più complessi. Uno di questi è la previdenza complementare perché ci si trova dentro ad una sovrapposizione di norme. in Italia capita spesso, dobbiamo dire la verità. Però questo elemento che cosa crea? Non tanto la fatica dello studio per chi svolge questo mestiere, che sarebbe il meno, ci si mette e si fa, quanto quella diffidenza alla quale faceva riferimento anche il professore e il presidente di Aran che noi abbiamo visto, abbiamo riscontrato non soltanto in tanta nostra esperienza ma in tante ricerche. Spesso in particolare il lavoratore giovane, cioè quello che entra nella pubblica amministrazione con un periodo di lavoro davanti molto lungo, proprio il soggetto al quale si rivolge il fondo di previdenza di tipo negoziale, guarda questa giungla, si spaventa e dice, vabbè, facciamo più avanti, vediamo, provo, provo. Ho raccontato qualche giorno fa al direttore un colloquio che ho avuto con un appartenente alle forze dell'ordine mentre mi controllava un controllo di routine dei documenti. cercavo di dirgli, diciamo, perché ci si prova, si sfrutta a qualsiasi momento, per cui anche mentre controllava il libretto gli ho buttato là questo tema della pensione, un ragazzo giovane e in effetti la risposta è una risposta molto comune. Mi ha detto, ma non lo so, la pensione, non so quando ci arriverò, forse non ci arriverò, mi sa che mi compro una casa. Ecco, ha concluso il tema. Per cui, adesso, questa ulteriore chiosa alla presentazione del libro, Francesco, ecco, come, qual è lo spirito con il quale hai costruito questo testo, che io ho definito manuale, ripreso anche dal presidente di Arn, se hai colto anche tu in tutti questi anni questa necessità che ognuno di noi, nei vari livelli che si occupa di previdenza complementare, aveva bisogno di un manuale. Ecco, c'era questa necessità e tu hai, con questo spirito, realizzato il testo. Prego, e grazie ancora di essere il nostro host. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto, ringrazio il fondo, la governance, il direttore generale e anche l'Aran, che dà questa opportunità di presentare questo lavoro. L'idea del libro nasce sostanzialmente per cercare di sistematizzare un po' quello che è successo negli anni, sia sulla previdenza in generale dei fondi pensione, ma anche sul modo in cui si è fatta l'informazione rispetto invece a quello che il filo conduttore mi sembra essere comune nel modo di pensare mio, Aran e anche del fondo, rispetto cioè alla formazione. Informare spesso ha significato nel mondo dei fondi pensione trasmettere una valanga di dettagli, formare significa invece coinvolgere i lavoratori rispetto alle opportunità che hanno. E quindi, diciamo, il testo, oltre a raccogliere un po' la parte normativa e la parte operativa, risente anche l'esperienza che ho avuto, e nei consigli di amministrazione, esempio del fondo Espero, come soggetto che vigila su fondi aperti, piani individuali di previdenza, e anche come consulente tecnico del Sim dei Carabinieri per tutta un'altra partita che riguarda quella fetta di lavoratori non contrattualizzati che hanno anche essi esigenza di avvicinarsi alla previdenza complementare. Il libro, grosso modo, l'ho strutturato in quattro parti. Una prima parte che si occupa un po' di cercare di individuare quali sono le principali categorie giuriche del trattamento di fine rapporto, il trattamento di fine servizio, che differenze ci sono tra questi istituti nel pubblico e nel privato. Una seconda parte in cui si spiega un po' cos'è la previdenza complementare in generale, poi quella specifica del pubblico impiego. C'è poi una parte che riguarda alcune soluzioni specifiche, frutto anche interlocuzioni con l'autorità di vigilanza di settore, e una parte sulle testimonianze. Nel senso che ho ritenuto importante mettere in evidenza che sul mondo dei fondi pensione tu parlavi della pubblica amministrazione, ci sono tante eccellenze a partire per la pubblica amministrazione anche della scuola, che vengono secondo me alle volte eccessivamente denigrate da un certo tipo di informazione che andrebbe anche calibrata. Detto questo, alla luce di quello che raccoglie il testo, la situazione attuale che vedo è quella di un sistema in cui ci sono i fondi di comparto, come per se osirio espero, che contemporaneamente accogliendo lavoratori pubblici, ma anche privati, risentono necessariamente di complessità normative che impongono anche nei confronti degli aderenti e dei potenziali aderenti una informazione calibrata. C'è un tema che è quello poi che per il pubblico impiego, il legislatore continua, e per i dipendenti pubblici che aderiscono al fondo di comparto, a richiedere l'applicazione di una normativa diversa da quella che viene applicata ai privati. Questo pone complessità che dal punto di vista fiscale, anche la Corte Costituzionale è dovuta intervenire in alcuni casi per cercare di dirimere alcune questioni sull'applicazione delle norme. Quindi c'è un tema anche di complessità su come applicare alcuni vantaggi fiscali. C'è il tema della virtualità del TFR, che non sempre è compresa a pieno e che può portare a delle problematiche, dato che io il TFR virtuale lo percepisco solo quando cesso dal servizio. C'è questa problematica, c'è anche quando metto il TFR al fondo pensione. Poi, tra le cose che il testo tratta, c'è tutta l'area dei non contrattualizzati intesi come forze armate di polizia, professori ricercatori universitari, magistrati, dove lì si apre una partita, secondo me, importante, non solo nel recepire le risorse finanziarie per fare partire i fondi di comparto o trovare soluzioni tipo le adesioni collettive ad altri strumenti nelle more che partano i fondi pensione, ma in cui, secondo me, è un tema in cui si può entrare anche ragionando su allargamento degli attuali fondi con la tecnica e i settori affini, in particolare per se osirio, per accogliere eventuali categorie. Faccio un esempio, vi dicevo che sono consulente tecnico e sim carabinieri, ma perché no, incominciare a ragionare, se ci sono modalità attraverso cui alcune platee possono entrare nell'ambito di strutture consolidate e avvalersi anche dell'esperienza che in questi anni i fondi hanno maturato. C'è poi il tema dell'informazione. Il tema dell'informazione, c'è una differenza tra informare e formare, tra trasmettere e coinvolgere. Ecco, in un contesto, quello di Perseo Sirio, dove ci sono tematiche per le pubbliche amministrazioni, sono come si applica il silenzio assenso per la polizia municipale, provinciale. C'è il tema dell'utilizzo delle sanzioni amministrative e quindi del coinvolgimento dei comuni nella corretta destinazione di queste risorse. C'è il tema anche che il datore di lavoro da contratto dovrebbe essere tenuto a informare i propri dipendenti, il che richiede anche uno sforzo congiunto sulle modalità attraverso cui trasferire le modalità di comunicazione. C'è una parte poi di problematiche. Si discute adesso sul rilancio della Previdenza. Quello che sento, mi assumo la responsabilità di quello che dico, è che si conosce poco il mondo dei fondi pubblico impiego e quando si parla di fondi pensione spesso ci si limita a parlare solo dei privati. Ecco, un tema è è possibile rendere obbligatoria l'adesione fondi pensione di comparto perché nel pubblico impiego c'è tutta una peculiarità della contrattazione collettiva e in particolare del contratto individuale di quando si viene assunti che rinvia il contratto collettivo a cui a sua volta la pubblica amministrazione è tenuta a dare attuazione. Quindi un tema è se un contratto collettivo prevedesse l'obbligatorietà. Lo può fare? Non lo può fare? Ci si può ragionare? È un tema su cui alcuni si stanno interrogando. C'è il tema che occorre sbloccare come diciamo le risorse anche per altri settori in particolare per i non contrattualizzati magari con la tecnica e settori affini e c'è anche un tema consentitemi che è quello di come viene veicolata soprattutto in questo periodo l'informazione più in generale sui fondi pensione. Quello che colgo nell'ultimo periodo soprattutto in questo contesto in cui la guerra e la pandemia prima hanno ovviamente impattato anche sul mondo finanziario su come certa stampa si concentra nel parlare dei fondi pensione. a mio avviso con due errori fondamentali. Il primo è quello di confondere i fondi pensione con gli strumenti finanziari. Sono due cose due discipline diverse e tanto è vero che se volessimo essere tecnici i fondi pensione non sono nemmeno richiamati in quelle che è la normativa di settore sugli strumenti finanziari che è la riforma Draghi del decreto 58 del 98 proprio perché sono degli strumenti con tutele specifiche. Il secondo errore spesso è che vengono accomunati alle casse dei libri i professionisti più di una volta ho sentito parlare utilizzando l'accezione previdenza complementare parlando delle casse. Sono due cose distinte, separate con problematiche diverse con diciamo modalità anche di investimento e tutele che fanno riferimento a discipline diversificate. E soprattutto mi consento di criticare quelle informazioni molto spicciole direi di luogo comune che si concentrano magari sul risultato negativo che hanno avuto i mercati finanziari o i fondi pensione negli ultimi sei mesi trascurando quello che invece ha risultato positivo sull'orizzonte temporale di medio-lungo periodo che deve essere quello di valutazione dei fondi pensione portando secondo me anche a scelte poi i lavoratori poco informati non adeguate rispetto a quello che è il profilo di investimento perché sono due cose distinte, separate il profilo di rischio cioè la paura che ho nell'investire dei soldi o nel perdere dalla capacità di rischio cioè la consapevolezza di sapere di avere uno strumento che ragiona su un periodo medio-lungo per aggiungere con le tutele specifiche richieste dalla normativa per la mia previdenza ecco chiudendo l'altro giorno parlavo con uno studente e mi faceva sorridere l'affermazione ma mi faceva sorridere in maniera così sarcastica cioè mi diceva ma perché i fondi perché dare un euro in più a un fondo e non invece ipotizzare di dare un euro in più agli enti pubblici previdenziali dato che lì un euro ha un rendimento stabile nel tempo invece nei fondi è variabile e non è così nemmeno in questo caso perché un euro dato all'ente previdenziale per parliamo dei più giovani che ha iniziato a contribuire nel 96 ha un rendimento che è collegato all'andamento del saggio medio di variazione quinquennale del PIL quindi a come va l'economia e nel 2015 ad esempio per le pensioni dei correnti del 2022 il rendimento è stato negativo addirittura ci è voluto un intervento normativo per dire che messo un euro al massimo te ne resti su disco uno ecco sono tutti temi che vanno affrontati certo complessi ma possono anche essere resi semplici si parla spesso di educazione finanziaria anche qui mi pare alle volte che si parli di educazione finanziaria ma si facciano dei progetti solo per parlarsi tra tecnici bisogna andare nelle scuole perché i ragazzi secondo me si fa anche un po' di generalizzazione sulla voglia dei ragazzi di imparare certe cose che apparentemente sono lontane come la pensione dipende da come ci si approccia ai ragazzi i ragazzi hanno un'intelligenza molto viva anche tematiche come l'intelligenza artificiale di cui si occupano adesso possono essere collegate anche i fondi faccio un esempio il controllo del rischio la valutazione anche della compliance la governance dei investimenti socialmente responsabili bisogna affascinare le persone per informarle questo è un tema che va collegato alla semplicità nel trasmettere anche le informazioni ecco per ora mi taccio per cercare un po' di rispondere se ci sono dei domani hai confermato un po' quello che che ho colto nel libro c'è uno strumento utile al nostro lavoro ma anche l'apertura di tante finestre nei vari ambiti dalla gestione finanziaria appunto al tema dell'informazione al tema dell'ampliamento delle conoscenze e per questo che noi utilizzeremo questo testo che vi ricordo pubblicato da Aegea i fondi pensione nel pubblico impiego di Francesco Vallacqua potete potete ovviamente trovarlo attraverso la rete nelle librerie vi invito a farlo dicevo noi utilizzeremo questo testo per altre iniziative ho parlato di questa iniziativa che faremo a Roma ma cercheremo di farne anche altre nei territori di stimolare le nostre parti istitutive ad utilizzarlo anch'esso per fare informazione per discutere come vi dicevo all'inizio abbiamo ancora un altro po' di tempo ci eravamo date un'ora poco più per questo evento che rimarrà ovviamente nel nostro sito io ho già anticipato a Francesco che poi prenderemo delle pillole lo diceva anche Nadeo noi utilizziamo social utilizziamo tutti gli strumenti possibili per fare per ampliare la nostra informazione per lanciare i nostri messaggi dunque estrapoleremo anche delle pillole da questo nostro evento sia dei tuoi singoli interventi ma poi anche qualche domanda dicevo all'inizio che potete inviarci delle domande noi ne abbiamo raccolte e seduzionate già alcune che possono aprire un po' lo spaccato insieme al professor Vallacqua abbiamo chiesto a Maurizio Sarti direttore del fondo di aiutarci voglio partire proprio da lui per una domanda che riguarda un istituto che noi abbiamo rincorso molto che è quello dell'adesione consapevole anche mediante silenzio assenso con diritto di recesso il nome è molto lungo la procedura complessa ma resa molto semplice anche da quel lavoro fatto insieme ad Aran da Aran soprattutto e dunque dal spiegare all'amministrazione come operare ricordo a tutti che questo istituto questa modalità di adesione nasce da una previsione di legge la legge finanziaria del 2018 rimanda alle parti l'accordo per renderlo attuabile quel testo della legge e veniva ricordato poc'anzi il 16 settembre del 2021 viene firmato questo accordo che riguarda tutti i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 2019 in avanti evidentemente dal 1 gennaio 2019 al 16 settembre 2021 lavoratori già in servizio che sono stati informati dalle amministrazioni dal 16 del 17 settembre 2021 ad oggi tutti i lavoratori che vengono assunti nella pubblica amministrazione afferenti al fondo Perseo Perseo Sirio debbono essere informati della possibilità di aderire al fondo e scatta questa procedura di informazione di 6 mesi di silenzio assenso e di mese di recesso questa è una domanda che ovviamente interessa c'ha un nome un cognome c'ha anche l'amministrazione dove lavora però evidentemente riguarda molti poi noi affronteremo anche il caso del singolo ma il nostro amico di un'amministrazione locale ci dice la mia amministrazione non mi ha iscritto per il tramite del silenzio assenso cosa faccio cosa posso fare questo sono sono casi che ci vengono segnalati da lavoratori da organizzazioni sindacali noi abbiamo una quantità di centrali di datori di lavoro enorme dal piccolo comune alla grande azienda ospedaliera della capitale per cui le modalità di attuazione dell'accordo ancorché è molto preciso ci sono le fac nel sito nostro nel sito di Aran il lavoro delle organizzazioni sindacali però spesso succede che da quello che abbiamo noi in questa esperienza di un anno e mezzo di applicazione anche più oramai che ha bisogno di essere affinati in questo caso il lavoratore non è stato iscritto al fondo cioè non si è completata quella che è la procedura che prevede il fondo ecco in questi casi che cosa dovrebbe fare lui o io dico anche l'organizzazione sindacale per sollecitare quell'amministrazione o l'amministrazione stessa per correggere il tiro prego direttore in questo caso noi abbiamo una 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 presenza delle difficoltà di attuazione degli accordi in generale in particolare questo sulla previdenza complementare sul silenzio assenso cosiddetto silenzio assenso eh che però come diceva il Presidente è una procedura eh di colma di garanzie come ricordava anche il Presidente di Aram e qui eh si presentano tutte quelle difficoltà di comunicazione di informazione di spiegazione in primo luogo rivolte verso gli enti gli enti datori perché qui prima a mancare è stato l'ente datore l'ente locale che non ha seguito la progettura prevista dall'accordo sul silenzio assenso eh quindi ha ragione il Presidente quando dice cosa dovrebbero fare sì il lavoratore e ci arrivo tra un attimo ma anche coloro che rappresentano i lavoratori all'interno dell'ente datore quindi a questo punto le organizzazioni sindacali che hanno come fondante la tutela dei lavoratori dovrebbero sollecitare l'amministrazione a dare attuazione all'accordo che sembra un po' una cosa talmente palese che non occorrerebbe neppure di dire il lavoratore cosa può fare beh il lavoratore a parte di lamentarsi insomma quello che può fare veramente è quello di aderire al fondo pensione non continuo sono delle problematiche penso che le problematiche tecniche siano risolte quindi proseguo il lavoratore che cosa può fare il lavoratore si può iscrivere a fondo pensione cioè non sarà iscritto come se per silenzio assenso si iscriverà volontariamente esplicitamente sottoscrivendo il modulo di adesione il modulo di adesione lo trova sul sito del fondo è un pdf editabile quindi lo riempie con tutti i suoi dati in ogni sua parte lo stampa in due copie una le firma tutte e due una le consegna all'amministrazione e l'amministrazione penserà poi a restituirla contro firmata da essa e mandarla al fondo pensione così si attiverà l'adesione e la contribuzione al fondo pensione ripercorrere le strade o le ripercorre l'azienda l'amministrazione attraverso però un intervento di rappresentanza collettivo quindi le organizzazioni sindacali che sono firmatari di questo accordo o se no io vedo un po' difficile per il lavoratore dover indicare l'adesione per silenzio assenso perché nel momento in cui la rivendica tanto vale che la esercita certo grazie io voglio legare una domanda a un'altra domanda su questo tema del silenzio assenso e chiamare in causa a questo punto sia il professor Vallacqua per sentire il suo parere di esperto se è ancora collegato con noi anche il presidente Nadeo perché un'altra domanda questa probabilmente non di un lavoratore probabilmente di un rappresentante di un rappresentante sindacale che è interessato al tema diciamo in oggetto cioè quello del tema del silenzio assenso allora la legge alla quale abbiamo fatto riferimento l'articolo della legge di bilancio ha stabilito che si dovesse partire dai lavoratori del primo gennaio 2019 perché la legge di bilancio 2018 che prevedeva di dover fare un accordo e poi guardava per il futuro nel momento in cui abbiamo fatto questa discussione ecco vedo anche il presidente Nadeo è emerso un dibattito ovvero è riassumibile in questa domanda ci sarà la possibilità di estendere il silenzio assenso anche agli ante 2019 questo per far sì che anche i lavoratori non coinvolti nell'attuale silenzio assenso che non hanno conoscenza di questo ora questo tema io lo ricordo nelle molte discussioni che abbiamo fatto con un commissario storico di Covip che è il il dottor Massicci che anche tu presidente conosci molto bene perché lui ci diceva sempre con quella foga che chi lo conosce non può diciamo sicuramente con che confermare noi dobbiamo guardare ai giovani dipendenti delle pubbliche amministrazioni in generale lui lo diceva per tutto il pubblico impiego e allora se è vero questo cioè che appunto noi dobbiamo creare questo zainetto previdenziale che accompagna la previdenza pubblica per i giovani lavoratori questo tema del silenzio assenso così come l'abbiamo declinato noi cioè questa adesione consapevole anche mediante silenzio assenso con diretto di recesso scusate il nome lungo ma questo sostanzialmente è può essere esteso anche per i lavoratori anche ante 2019 per esempio noi sul piatto ci avevamo messo dal 2000 in avanti il famoso TFR TFS alle cui faceva riferimento il presidente Nadeo ecco ovviamente so bene che Aran lavora con gli indirizzi del governo dei comitati di settore ma presidente qual è la tua opinione è pensabile che questo strumento possa essere esteso lo dico anche e aggiungo alla domanda del nostro ascoltatore video ascoltatore anche perché adesso si sta discutendo di un'implementazione della previdenza complementare a 360 gradi per tutti i lavoratori nel pubblico impiego mi viene da dire noi un passo l'abbiamo fatto quando si parla di semestre straordinario di silenzio assenso per incentivare la previdenza complementare ma non sarebbe meglio affrontare il tema guardando ad uno strumento come quello nostro e non lo dico perché l'abbiamo fatto noi l'hanno fatto il legislatore l'hanno fatto le parti istitutive per cui non sto dicendo che siamo stati bravi non lo stiamo attuando ma non sarebbe meglio estendere questo strumento che ha già funzionato per il privato ma io dico nel pubblico anche andando indietro negli anni presidente che ne pensi? Allora innanzitutto l'accordo che noi abbiamo fatto prevede espressamente che il silenzio assenso si applichi agli assunti dal dal primo gennaio 2019 perciò ovviamente da un punto di vista contrattuale tra l'altro io adesso mentre parlavate sono andato a scorrere un po' le fac perché poi non è che seguo giornalmente tutto quello che accade noi abbiamo fatto delle fac in relazione all'accordo e ovviamente tutte le fac sono intese da un punto di vista tecnico normativo contrattuale per si parla degli assunti dal primo gennaio 2019 allora però io voglio capire una cosa faccio una controdomanda che cosa si intende applicare il silenzio assenso per quegli assunti prima cioè secondo me andrebbe regolamentato no? ma che cosa intendiamo? cioè Antonio Naddeo che è stato assunto nel lontano non mi ricordo neanche più quando se entro sei mesi dalla data del mettiamo l'estensione di questo accordo collettivo non dice nulla cioè non dice che non vuole aderire tutto quanto aderisce automaticamente intendiamo questo per gli assunti prima del del gennaio 2019 Presidente ti faccio Nadeo sì ma non arrivando fino a quando sei stato assunto no vabbè adesso io non ho detto di tutti coloro quando sono stato assunto no ho detto perché noi lo sappiamo lo so stiamo parlando di tutti coloro ai quali si applica il TFR perché andai prima del beh innanzitutto deve essere una scelta secondo me del del legislatore e deve essere diciamo eh allargato quell'accordo che noi abbiamo fatto cioè se ti dovessi rispondere in relazione a quello che c'è adesso non è possibile insomma almeno per 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 quello che è poi può darsi che poi abbiate una interpretazione diversa ma la vedo un pochino problematica anche perché quella data è scritta in maniera espressa però può essere un ulteriore tassello che si aggiunge anche vedendo gli effetti positivi che sta avendo sul numero delle iscrizioni in base al silenzio assenso che noi abbiamo fatto secondo l'accordo cioè effettivamente presidente tu avevi presentato dei dati dove si dimostra che questo strumento è stato eh importante e dato che è uno strumento ricordiamolo perché c'è sempre qualche sindacato che non è d'accordo è uno strumento che poi è un silenzio assenso consapevole cioè il il lavoratore viene accompagnato al momento in cui poi aderisce definitivamente al fondo non è che è un silenzio un po' subdolo no? come può essere la cosa come qualcuno pensava è accompagnato questo può anche essere diciamo un ulteriore sviluppo che si può fare andare ante primo gennaio 2019 ma non è possibile con l'accordo che abbiamo fatto almeno per quello che che questo sicuramente tant'è che io raccogliendo la domanda che ci veniva che ci veniva rivolta la mettevo sul tavolo del del legislatore che in queste settimane sta discutendo ecco ma Francesco tu vedi questa come una possibilità eh tu prima hai interlocuito e tra l'altro eh aggrego un'altra domanda no? perché un altro ascoltatore ci dice il professor Vallacqua ha parlato di obbligatorietà l'adesione ma la contrattazione potrebbe superare la legge che non la prevede ecco eh se questo tema dell'obbligatorietà che ha delle eh perplessità delle non è stata prevista dalla legge all'inizio eh però strumenti di adesione consapevole adesso noi per brevità abbiamo chiamato questo accordo del del 16 di settembre accordo sul silenzio assenso ma fa bene il presidente Nadeo a ricordare che stiamo parlando dell'adesione consapevole mediante anche silenzio assento assenso con diritto di recesso che è una cosa ben diversa dal dal silenzio assenso che tenta di eh rifilare qualcosa ad un consumatore ecco adesso questo incrocio tra eh l'informazione l'obbligatorietà l'adesione consapevole ecco che ne pensi come potrebbe a partire dall'esperienza di questi due anni che tu conosci bene che ti abbiamo eh riferito in questi in questi mesi come si potrebbe sviluppare allora preciso che il tema prevalente non è nemmeno normativo ma è proprio diciamo sulla consapevolezza nel senso che ehm eh se sono consapevole che una scelta automatica può essere ripensata e se prima di ripensarla sono in grado di avere qualunque tipo di informazione per capire se la posso ripensare oppure no cambia moltissimo quando parlo di eh diciamo della soluzione della potenziale adesione obbligatoria eh mi riferisco a questo che nel pubblico impiego ehm eh contrattualizzato anche il dipendente pubblico quando viene assunto si modifica il suo stato su giuridico eh stipula un contratto individuale il contratto individuale rinvia al contratto collettivo e la contrattazione collettiva dopo la ehm una priorizzazione del pubblico impiego è fonte normativa cioè la pubblica amministrazione è tenuta a dare attuazione a quella eh attività tanto che si parla del pubblico impiego di efficacia generalizzata dei contratti collettivi quindi il tema è potrebbe un contratto collettivo mh di comparto inserire la l'adesione obbligatoria col diritto di recesso nel senso che tu in automatico sei iscritto ma non è un'iscrizione tombale è un'iscrizione abbinata però a quella che si chiama analisi economica del diritto cioè quando io faccio una norma prima di farla nella mia esperienza personale sono uscito fuori da alcuni comitati tecnici perché non mi piace entrare dentro qualcosa che decide senza valutare quali sono gli impatti e le norme che modifichi se tu introduci l'obbligatorietà devi contemporaneamente introdurre i meccanismi di formazione in formazione obbligatoria per il dipendente faccio un esempio banale mi piacerebbe portare avanti un'idea legislativa che obbliga all'atto dell'assunzione non solo a farti il corso sulla sicurezza cioè se guardi il gradino dove c'è la striscia gialla e nera o il simbolo di morte significa che c'è il pericolo ma anche sulla previdenza complementare io lavoro sono anche direttore generale di un fondo nell'università Bocconi la nostra idea è che quando viene assunto una nuova persona noi comunque ti facciamo una formazione non è obbligatorio ma ti facciamo una formazione dove ti spieghiamo non che devi aderire a un fondo che cos'è il fondo pensione che cos'è la previdenza complementare e cosa non è la previdenza complementare perché c'è un altro tema quanti sono i dipendenti pubblici che pensano di essere già iscritti a un fondo pensione e che invece hanno tutt'altro molto spesso politiche assicurative tradizionali o quanti sono i dipendenti pubblici che per varie ragioni invece che aderire ad un contesto in cui porta ad avere anche la contribuzione da parte del datore di lavoro decidono pensando che sia la stessa cosa di aderire individualmente a dei prodotti di previdenza perdendo il diritto al contributo datoriale e ultimo tema su cui si potrebbe ragionare soprattutto per i più giovani che possono dire ma perché mettere da subito tutto il trattamento di fine rapporto al fondo pensione io non so ancora come funziona estendere quello che è stato esteso anche ai privati la possibilità di un'adesione non necessariamente all'inizio con tutto il TFR ma modulabile quindi ad esempio per sintetizzare è vero che ti scrivo obbligatoriamente ti do il diritto al recesso ti dico anche ad esempio per via normativa che non mi devi mettere subito tutto il TFR potresti modulare il 25 il 50 cambiando idea successivamente ogni anno ogni due anni da intervenire ma sempre collegando l'aspetto formativo cioè io non so negli enti nella pubblica amministrazione quando tu devi andare a parlare e dire o lasciare spazio per fare una tra virgolette assemblea per parlare dei fondi pensione quante sono le disponibilità a parlare di queste tematiche questo è un tema che bisogna sciogliere perché nessuno vuole vendere un prodotto finanziario quello che deve cambiare nell'interlocuzione con chi si occupa di queste tematiche è che nessuno vuole vendere un prodotto si vuole informare innanzitutto sul contesto previdenziale pubblico è complementare e lasciare singoli le scelte solo dopo che sono informati grazie ecco questa ultima parte ha aperto ad un altro pacchetto di quesiti che io riassumo con una domanda di un singolo e rivolgo ad entrambi in termini generali ne facevi riferimento nella prima parte della introduzione quando hai specificato che quando parliamo di fondi pensione non stiamo parlando di strumenti finanziari e veniamo appunto al tema e un tema più specifico quello che sta facendo il fondo per cui in questo caso diciamo chiedo al direttore di fare anche un breve diciamo mini spot di quello che stiamo facendo nel tema di gestione finanziaria ma questo è il tema che noi incontriamo in tutte le nostre assemblee in tutti i colloqui con i lavoratori in questo caso diciamo parliamo partiamo sempre dal singolo per dare l'idea del dubbio che hanno i lavoratori i rendimenti non sono stati soddisfacenti prima introduce appunto il tema della gestione finanziaria bla 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 poi dice i rendimenti non sono stati soddisfacenti nel 2022 mi mancano 20 anni al pensionamento posso stare tranquillo ecco qui è il primo veramente una delle prime questioni forse prima c'è il tema della garanzia perché il lavoratore vuole essere garantito che mettendo le sue risorse in un fondo non ci siano rischi di perdite di default della banca che salta e quant'altro per cui dobbiamo far capire che cosa è il fondo e il secondo è il rendimento è ovvio che se tu guardi là non essendo uno strumento finanziario non devi guardare la rendita annuale ecco questa domanda io la rivolgo ad entrambi prima carattere generale al professor Vallacqua la gestione finanziaria nel fondo di pensione complementare di tipo negoziale e poi al direttore sulla gestione finanziaria nel fondo per se usirio con queste due domande scavalliamo l'ora per cui chiudiamo chiudiamo il nostro incontro e passo passo la parola subito al professor Vallacqua allora sul tema innanzitutto bisogna capire come dicevo prima che c'è la capacità di rischio cioè quest'anno i rendimenti sono andati male perché sono andati male cioè ci sono degli eventi eccezionali ma io sono obbligato a uscire dal fondo oggi o posso stare nel fondo per recuperare e questo è il vero tema la capacità di rischio uscire o preoccuparsi di uscire da un fondo nel momento in cui i mercati stanno andando male è esattamente il contrario rispetto a quello che bisogna fare e paradossalmente entrare o investire in quote in un fondo nel momento in cui il valore delle quote è più basso è il momento migliore per entrare perché a parità di diciamo somme investite acquisisco una maggiore numerosità di quote ma il tema è sapere che io se investo in un fondo pensione ho un orizzonte da tener conto e se sono vicino al pensionamento quello che devo sapere è che non sono obbligato a prendere i soldi oggi o posso se ho dei comparti come la linea garantita semmai switchare da una linea a un'altra quando ho recuperato quindi il tema secondo me è sempre lo stesso cioè cercare di quando si aderisce e anche nel tempo perché molti lavoratori mi dicono ma io non ho le informazioni precise su come investe il fondo perché non ci si prende la briga ma non è tanto il lavoratore ma forse il modo in cui bisogna comunicarlo è il fatto che c'è il sito dove può leggere quello che fa il fondo ma ogni anno il fondo è obbligato a inviarti una documentazione del tuo aspetto in fase di accumulo hai un'area riservata che devi utilizzare in cui tempo per tempo hai indicazioni di quella che è la tua situazione e soprattutto ripeto non essere frettolosi quando ci sono situazioni eccezionali come quella attuale e nel chiedere la prestazione e nel trasferire la prestazione perché che salire le perdite quindi il tema è quello del sapere interpretare correttamente in momenti eccezionali cos'è il fondo pensione rispetto a gli altri strumenti poi è chiaro che in questo quando io faccio riferimento al fondo inteso che non è uno strumento finanziario non intendo dire che il fondo non investe nei mercati il fondo investe nei mercati ma investe nei mercati con delle tutele che sono totalmente differenziate una delle cose che diciamo utilizzo molto spesso quando proietto dei dati è quello che è successo con le varie crisi sistemiche i fondi pensione sono entrati a regime dal 2001 quindi sono presi tutte le crisi possibili immaginiamo e più brutte e nonostante questo 2001 2008 poi diciamo a cavallo del 2011 eccetera hanno sul lungo periodo battuto il rendimento il TFR è chiaro che in questo periodo ci sono degli alti e bassi ma quello che mi interessa è il trend di medio periodo grazie professore il fondo per s'ausilio e la gestione finanziaria allora intanto il risparmio in un fondo pensione non è uguale al risparmio all'investimento in uno strumento finanziario lo diceva poc'anzi Francesco Vallacqua cosa voglio dire in questo che mentre risparmio in uno strumento finanziario io impegno del denaro oggi perché ne ho una disponibilità poi lo accrescerò forse tra un anno due anni eccetera per poi averne la disponibilità nel momento in cui ho la necessità nel fondo pensione io non impegno del denaro oggi per poi vedere che succede domani io lo impegno mensilmente questa periodicità è di per sé un'attenuazione dell'esposizione a rischio finanziario perché non sto impegnando tutto 2001 ci ho messo 100 mila euro e poi vedo nel 2022 cosa è successo ai miei 100 mila euro no io ho impegnato man mano quindi anche durante le crisi 2008 2011 2018 2022 io ho proceduto ad accantonare del denaro a risparmiare acquistando quote a livelli più bassi quindi quasi per paradosso peggio va il mercato meglio è per i risparmiatori è un paradosso ovviamente utilizzato in quanto tale cosa come è organizzato oggi Perseo Sirio Perseo Sirio oggi è organizzato un po' tradizionalmente ha un comparto con garanzie e restituzione del capitale e un comparto bilanciato prudente 70% obbligazione e 30% azione è quello che fanno un po' tutti quanti i fondi pensione noi ci siamo posti l'anno scorso in piena crisi finanziaria perché l'anno scorso indubbiamente i mercati sono andati male sia quelle obbligazionari sia quelle azionari ci siamo posti quello che a nostro giudizio è la soluzione dei problemi e cioè che il fondo pensione è uno strumento di risparmio previdenziale essendo uno strumento di risparmio previdenziale ha bisogno di una gestione che è orientata verso la erogazione di una rendita complementare al sistema pubblico e allora abbiamo iniziato a ristrutturare la nostra gestione finanziaria e da settembre avremo settembre-ottobre voglio essere non buttarmi troppo avanti settembre-ottobre avremo un nuovo sistema di gestione finanziaria che non è costruito più per comparte di investimento ma per profili rischio rendimento quindi sono profili che più si adattano alle persone nel quale ci saranno i profili più classici da quell'azionario al bilanciato prudente al bilanciato puro all'obbligazionario ma soprattutto ci sarà un profilo life cycle che cos'è un profilo life cycle life cycle un po' lo dice la parola stessa è un profilo di vita no un ci segue il ciclo di vita io entro inizio a lavorare sono un giovane mi iscrivo al fondo pensione scelgo il profilo life cycle e da quel momento il fondo pensione mi prende per mano fino a condormi alla pensione cioè non devo essere più io a valutare come giustamente diceva Francesco con l'acqua a secondo del momento se switchare al garantito se dal garantito switchare al bilanciato là dove c'è all'azionario e via dicendo ma sarà il fondo pensione che fa il lavoro di governo del mio risparmio previdenziale fino al momento dell'erogazione della prestazione finale che in primo luogo è una rendita poi secondo la normativa di legge può essere anche in parte rendita in parte capitale o ricorrendo a determinate condizioni anche esclusivamente in capitale questo cosa consente consente a me di entrare in questo profilo life cycle e utilizzare uno dei profili più aggressivi azionario per poi passare nel corso del tempo della mia vita lavorativa che ha anche la vita di risparmio previdenziale a profili meno aggressivi fino ad arrivare al momento del profilo garantito che mi consentirà di consolidare quanto ho maturato fino a quel momento quindi sfruttare i mercati l'aggressività nel momento in cui sono più giovane la estrema tutela nel momento in cui mi sto avvicinando al pensionamento ci saranno anche gli altri profili le ho dette ci sarà l'azionario il bilanciato azionario il bilanciato pure il bilanciato obbligazionario quindi quello più prudente l'obbligazionario il garantito e questi poi ciascuno è libero di sceglierli quelle su quali noi puntiamo su quali noi sollecitiamo l'attenzione dei lavoratori perché ripeto siamo un fondo pensione non siamo uno strumento finanziario è il life cycle quello che in qualche maniera trasla la responsabilità delle scelte da in capo al lavoratore che non sempre ha gli strumenti di valutazione dal lavoratore al fondo pensione che invece ha al suo interno gli strumenti e le professionalità per utilizzare al meglio gli investimenti per una forma pensionistica complementare grazie al direttore questo tema della gestione finanziaria sarà uno degli argomenti su cui torneremo con maggiore attenzione nel corso dei prossimi mesi proprio per spiegare questa nuova modalità di gestione finanziaria del nostro fondo l'incontro di oggi aveva un obiettivo spero che siamo riusciti a centrarlo adesso dalla regia mi dicono che nelle diverse piattaforme sono diverse decine le persone che sono collegate questo nostro incontro andrà poi rimarrà nei nostri social sarà nel nostro sito e ne stramoleremo come dicevo prima delle pillole però l'obiettivo è quello di introdurre e invitare alla lottura e alla consultazione del libro del professor Vallacque fondi pensioni nel pubblico impiego problematiche produttive egea edizione è acquistabile ovviamente piattaforme e librerie noi oggi abbiamo affrontato alcuni ambiti nel testo ce ne sono ce ne sono tanti altri che sono oggetto quotidiano non abbiamo se non sfiorato il tema del fisco che tu affronti in maniera molto molto dettagliata la gestione finanziaria spiega quello che vuol dire la gestione finanziaria nei fondi di previdenza ma la normativa ma hai citato prima l'ex articolo 208 del codice della strada e dunque quello che dovrebbero fare i comuni e le organizzazioni sindacali per poterlo applicare destinare alla previdenza complementare di tipo negoziale dunque al fondo per se usirio e tutto il pacchetto su cui ci siamo attardati della adesione semiautomatica per cui vi invito ancora una volta a dotarvi di questo testo e a tenerlo sul tavolo come ci ha detto che farà il presidente di Aran Antonio Naddeo che ringrazio molto per la sua presenza estendendo il ringraziamento ancora una volta a tutta la struttura di Aran grazie al direttore Maurizio Sarti e soprattutto grazie al nostro ospite Francesco Vallacqua per questo testo ma soprattutto per il lavoro costante di diffusione di cultura previdenziale che fa quotidianamente grazie e a presto grazie a tutti grazie a tutti